Può una forma geometrica definire la struttura di una canzone? I radioed lo hanno fatto con una piramide. È un pattern ritmico di due battute di quattro quarti, quindi in tutto otto quarti che si possono dividere in sedici ottavi. La piramide ha quattro facce laterali, ognuna di queste è un triangolo, quindi tre lati. Una base che è un quadrato, quindi quattro lati. Quindi una sequenza di due battute, tre ottavi, tre ottavi, quattro ottavi, tre ottavi, tre ottavi. E il tempo è... Non è finita, la piramide è anche nel motivo armonico che accompagna le strofe. Infatti gli accordi partono da una base di fa diesis maggiore, salgono di un gradino a sol maggiore settima, e poi di un altro gradino a la maggiore sesta. E qua siamo in cima alla piramide. Torniamo giù di un gradino a sol maggiore settima, e poi al primo gradino di fa diesis maggiore. Tra l'altro il testo della canzone fa riferimento alla mitologia egizia, divinità amanti perduti e sullo sfondo un fiume che potrebbe essere il Nilo. Grazie. Grazie.